a questo momento di informazione sull'accesso alle lauree magistrali dell'area dell'ingegneria. Io mi chiamo Maria Cristina Caminiti, lavoro presso la segreteria didattica del Politecnico di Torino, sono qui insieme alla collega Alba Liuzzi che seguirà le domande che voi farete in chat in modo poi da potervi rispondere. Questo incontro si svolgerà in questo modo, abbiamo preparato una breve presentazione, è una panoramica generale, non intende essere esaustiva ma intende prevalentemente fornirvi indicazioni e strumenti per acquisire poi in autonomia tutte le informazioni necessarie per candidarvi e per immatricolarvi alla laurea magistrale. Mentre scorre la presentazione voi potete già porre le vostre domande in chat, le raccoglieremo al termine della presentazione che durerà 10-15 minuti al massimo, risponderemo alle vostre domande e ai vostri dubbi. Quindi vi invito a scriverci se avete dubbi vari. Allora, ci siamo presentati, vi dico brevemente di che cosa si occupa la segreteria didattica di ingegneria. Noi seguiamo tutti gli studenti in tutto l'iter di accesso alle lauree magistrali, dalla registrazione tramite la piattaforma Apply Polito fino all'immatricolazione e alla compilazione successivamente di piano carriera e carico didattico. Vi ho indicato in questo slide come potete contattarci. Immagino che alcuni di voi saranno studenti del Politecnico di Torino, dei nostri corsi di laurea triennale, quindi probabilmente conoscete già molto bene il servizio di assistenza ticket che è in questo momento purtroppo l'unica modalità per contattarci in quanto i nostri uffici sono momentaneamente chiudi. Comunque potete inviarci un ticket anche solo accedendo come utenti esterni o ospiti o se vi siete già registrati sulla piattaforma online Apply attraverso la piattaforma. Accedere ai ticket vi consente prioritariamente di scorrere tutte le FAQ che abbiamo preparato e che riguardano tanto i requisiti di accesso ai nostri corsi di laurea magistrale quanto le modalità per l'invio della candidatura, per la valutazione, per la compilazione del form e successivamente per l'immatricolazione. Detto questo, quali sono i passaggi essenziali? Informarsi, registrarsi sulla piattaforma Apply Colito ma questo solo per gli studenti provenienti da altri Atenei, inviare la richiesta di ammissione quindi candidarsi a un corso di laurea magistrale per i quali siete interessati e infine sperando che abbiate una valutazione positiva e che sia tutto a posto immatricolarsi. Allora fondamentale siete qui quindi vi state già informando benissimo il materiale degli Open Days, Polito Open Days compresa la registrazione di questa presentazione rimarranno a vostra disposizione anche per i prossimi mesi ma qui vi abbiamo fornito alcuni link. Quello principale da cui partono poi tutti gli altri è il nostro portale della didattica. Su questo troverete vari pulsanti per accedere all'informazione sui corsi di studio. Pensate bene a quali sono i corsi di vostro interesse perché potrete inviare la vostra candidatura solo per due corsi di laurea magistrale e non sarà possibile cambiarli in corso d'anno. Sui requisiti d'accesso e le modalità è il sito principale la parte del portale della didattica principale e il sito apply studenti magistrali con titolo italiano dove troverete tutte le informazioni intili sulla contribuzione studentesca per accedere alle informazioni sulle tasse universitarie sulle possibilità di riduzioni di borse di studio e quant'altro e infine vi consigliamo comunque di navigare sul sito del Politecnico per scoprire tutte le opportunità che potrete trovare diventando studenti del Politecnico. Allora per ciò che riguarda le regole generali di accesso che trovate dettagliate sia sul sito apply sia sul video che è disponibile nel materiale degli open day sui quali per cui sarò un po' rapida i requisiti dicevo sono principalmente tre oltre ad aver acquisito un titolo di primo livello requisiti curriculari il requisito di adeguatezza della personale preparazione e la certificazione di conoscenza della lingua inglese. Brevemente sui requisiti curriculari dovrete essere in possesso di un determinato numero di crediti in settori scientifico disciplinari specifici per ciascun corso di laurea magistrale. Sul sito troverete i dettagli e soprattutto le tabelle con tutti i settori in modo tale da poter già verificare diciamo in autonomia prima ancora di inviare la candidatura se siete in possesso di tali requisiti. Per quanto riguarda l'adeguatezza della personale preparazione dovete essere in possesso di una determinata media. Per accedere ai nostri corsi di laurea se siete studenti provenienti da altri atenei dovete avere almeno la media del 24 escluso per il corso di laurea in ingegneria gestionale tanto in italiano quanto in inglese che prevede come requisito la media del 25. Per gli studenti interni cioè provenienti da corsi di laurea del Politecnico di Torino i requisiti di media sono un pochino differenti a seconda del tempo impiegato per conseguire il titolo di primo livello. Conoscenza, certificazione di conoscenza della lingua inglese. Allora questo è un requisito per l'accesso a tutti i corsi di laurea magistrale del Politecnico di Torino indipendentemente dal fatto che siano erogati in lingua italiana o in lingua inglese. È richiesta una certificazione di livello B2 che corrisponde al 5.0 fatto salvo per alcuni corsi che richiedono una certificazione di livello 5.5 come autoveicola automotive. Per l'anno accademico 20-21 in considerazione dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo e quindi della difficoltà di poter sostenere gli esami che permettono di conseguire la certificazione potrete immatricolarvi con riserva anche se non l'avete ancora conseguita ma dovrete comunque ottenere la certificazione richiesta entro giugno 2021 per sciogliere la riserva appena il blocco della carriera. Allora secondo step che è valido solo per gli studenti provenienti da altri Atenei registrarsi nella piattaforma online Apply Polito. Dovrete compilare il form in tutte le sue parti riceverete username e password per accedere poi ad una pagina personale attraverso la quale potrete candidarvi. Gli studenti del Politecnico di Torino per candidarsi e inviare le richieste di ammissione accedono direttamente dalla loro pagina personale nella sezione segreteria online trovano il portlet Rappai Polito, trovano già tutti i dati relativi alla loro carriera presenti perché sono nostri, li abbiamo, conosciamo la loro carriera di laurea triennale e devono soltanto scegliere il percorso di loro interesse. Gli studenti invece provenienti da altri Atenei dopo aver ricevuto le credenziali d'accesso devono compilare tutte le sezioni della pagina Apply, in particolare devono inserire la tessera, devono effettuare un contributo richiesto per poter inviare la candidatura e avere quindi la valutazione ufficiale che è l'unico modo per avere la certezza di essere ammessi o per conoscere eventualmente quali sono come dire le carenze e quindi gli esami eventualmente a sostenere prima di potersi matricolare, devono selezionare i corsi di laurea magistrale di interesse e inviare la richiesta di ammissione tramite la sezione riepilogo e conferma. Allora, dopodiché non resta che attendere la valutazione della commissione preposta a valutare le competenze acquisite nelle vostre precedente carriera. Se la valutazione è positiva, dopo aver conseguito il titolo di primo livello, i studenti esterni dovranno aggiornare la pagina Apply con voto e data di laurea. Per gli studenti interni invece il dato sarà aggiornato in automatico, dovranno semplicemente attendere la registrazione della laurea, quindi questo dato sarà completo, potrete tramite la sezione valutazione procedere con l'immatricolazione, il pagamento della prima rata della contribuzione e a quel punto avrete il numero di matricola. Allora, ho parlato di questi step, ora immagino che la vostra attenzione vada in particolare su alcuni punti, vedo che state disponendo le vostre domande, quindi lascerei la parola alla collega Alba che vi risponderà. Continuate pure a scrivere anche mentre noi rispondiamo. Grazie. Vai Alba. Allora, procediamo per ordine dalla prima domanda. Niccolo, per quanto riguarda il livello di inglese, il B1 del Cambridge è passato con merito, non con distinction, è valido come IELTS 5.0? Abbiamo anche nelle note condivise una tabella in cui sono contenute tutte le certificazioni accettate in sostituzione dell'IELTS 5.0? Se lei ha un PET con un pass with merit, che forse è quello che intendeva, per l'accesso 2021 è valido, quindi è considerata una certificazione valida. Alessandro, buongiorno. Nella verifica dei requisiti curriculari, quando si fa la richiesta di accesso alla magistrale tramite Apply, vengono caricate solo le materie svolte nell'Ateneo esterno. Allora, quando lei fa la richiesta deve inserire tutti gli insegnamenti superati con voto, quindi deve inserire il settore scientifico disciplinare associato all'insegnamento, il numero di crediti e il voto conseguito, perché questo serve sia per la verifica dei curriculari, appunto come avevamo detto, bisogna avere 40 crediti nelle materie di base e 60 nelle caratterizzanti affini, questo appunto varia a seconda del corso di magistrale che si seleziona, quindi tutto quello che lei va a caricare della sua carriera viene valutato. I voti degli insegnamenti servono per il calcolo della media. Poi Karen, se la laurea è in italiano, è necessario presentare un certificato in italiano o in un'altra lingua? Non sono italiana. Allora Karen, io le chiederei, ha un titolo estero o ha un titolo italiano innanzitutto? Perché le regole cambiano anche a seconda del titolo di ammissione, quindi se ha un titolo estero... tendiamo... Allora, vediamo... Nel frattempo rispondiamo ad Antonella. È possibile effettuare l'iscrizione con riserva? Perché laureando? Provenienza da un altro teneo. Allora, non è possibile immatricolarsi se non si è in possesso del titolo, quindi fino a quando non si laureano non è proprio consentito procedere con l'immatricolazione. Quindi dovrà prima attendere e poi anche il giorno stesso della laurea, cioè il giorno stesso della laurea va a inserire il voto che ha conseguito e già può procedere con l'immatricolazione. Prima non è possibile perché non è proprio consentito dalla legge essere iscritti simultaneamente, contemporaneamente a due tenei differenti. Karen nel frattempo ci ha risposto. Ho un titolo straniero, sono colombiana e in questo momento sono settimo semestre. E allora, se ha un titolo straniero, non è questa la finestra di presentazione per lei, perché per il titolo estero ci sono delle regole differenti e non so se in questo momento ci siano altre presentazioni o se ci sono già state nella giornata di oggi. Però, appunto, non prenda troppo in considerazione queste informazioni, perché queste sono per chi ha titolo di accesso italiano. Sempre Alessandro, nella verifica dei requisiti curriculari è sufficiente verificare la congruenza dei settori scientifico disciplinari e degli esami per avere un'idea approssimativa? Sì, questa è una cosa che consigliamo, perché non essendo previste delle valutazioni informali, quindi non possiamo dirvi già con certezza adesso, soprattutto perché non è la segreteria ad effettuare le valutazioni, ma è una commissione didattica, quindi sono proprio i docenti che vanno a verificare. Potreste prendere in considerazione la tabella che dovrei aver inserito nelle note condivise e vi fa vedere per ogni corso di laurea magistrale quali sono i settori scientifico disciplinari richiesti in materie di base e in caratterizzanti, quindi già lì vedere con il proprio piano degli studi in mano se ci sono delle corrispondenze. in quel caso già è possibile avere un'idea di quanti CFU potrebbero mancare o se eventualmente si rispetta il requisito. Poi, in quanto tempo avviene la valutazione? Allora, la valutazione dipende da chi la effettua sostanzialmente, quindi noi vi diamo un tempo indicativo di 10-20 giorni per poter ricevere la valutazione. Potrebbero essere di più, potrebbero essere meno, però indicativamente il tempo di attesa è quello. Siamo Emma. Se si viene immatricolati con riserva per mancanza di certificazione di inglese, si possono sostenere e verbalizzare esami oppure prima di sostenere esami bisogna presentare il certificato? Allora, l'immatricolazione con riserva, la questione della riserva, si ha una riserva perché appunto siete tenuti poi a consegnare entro il 30 giugno 2021 una certificazione linguistica valida, però fino a quel momento siete iscritti normalmente, quindi potete compiere qualsiasi atto di carriera, prenotazione agli esami, pagare le tasse, stampare i certificati, quindi è un'iscrizione normale, soltanto che c'è questa condizione di riserva che appunto è dovuta alla mancanza del certificato, ma questo non va, non implica nulla a livello di carriera universitaria. Poi ovviamente se entro il 30 giugno 2021 dovesse malagoratamente succedere che uno non abbia il certificato, per adesso è previsto che da quella data in poi ci sia un blocco della carriera fino a quando appunto non presentate un certificato. Questo blocco non significa cancelliamo tutti gli esami e perdete tutto, ma momentaneamente avete un blocco che non vi consente appunto di compiere atti di carriera, come prenotarvi e quindi mi viene in mente agli esami della sessione estiva, che sarà quella poi imminente. Da quando è possibile inviare le richieste di valutazione della carriera della laurea di primo livello? Allora, abbiamo già aperto, data 22 maggio se non sbaglio, quindi è già possibile purché si siano superati i 140 crediti, quindi se ha già superato i 140 crediti può già inviare la sua richiesta e avere una valutazione. Andrea, per gli studenti provenienti da altre Tenei la media minima del 24 è calcolata sui singoli corsi della triennale oppure sul voto di laurea? Allora, la media, comprensivo quindi dei punti per la tese ed eventuali loghi? No, non ci basiamo sul voto di laurea, perché oltre a quello è anche a discrezione dell'Ateneo di provenienza, ogni Ateneo può decidere appunto, le commissioni possono decidere di attribuire punteggi, no, noi ci occupiamo soltanto di valutare, quindi di calcolare la media degli insegnamenti superati con voto, quindi tutti gli insegnamenti che lei ha superato, che hanno una valutazione in trentesimi, che lei inserisce nella procedura, sono valutati per il calcolo della media. Buongiorno, se ho conseguito il certificato B2 nel 2016, è comunque valido per un'eventuale iscrizione magistrale, non teniamo conto della data di conseguimento delle certificazioni, quindi potreste anche averla conseguita dieci anni fa, però se il livello è il livello che appunto è indicato nelle tabelle, è ok, quindi è valida. Ci sono scadenze per immatricolarsi? Sì, ve le ho riportate nelle note condivise, c'è proprio un link che vi rimanda alle varie scadenze. Abbiamo due finestre di immatricolazione, sono una a partire dal primo periodo didattico e una a partire dal secondo periodo didattico, questo dipende anche quando conseguite la laurea, quindi chi riesce a laurearsi entro le scadenze per iscriversi al primo periodo didattico, noi consigliamo fortemente di iscriversi a partire dal primo. Se poi appunto uno studente si laurea dopo la scadenza, che per il primo periodo è il 27 novembre, allora potrà iscriversi soltanto a partire dal secondo semestre. Per accedere alla laurea magistrale in ingegneria gestionale è richiesto un punteggio minimo per il certificato B2? Allora, le specifiche dei punteggi sono tutte riportate nella tabella, quindi nella tabella vedrete che per ogni certificazione c'è il punteggio richiesto, o se non c'è vuol dire che non è richiesto alcun punteggio, l'importante è avere ottenuto il livello. Ok? Alessandro, potrò seguire le lezioni online durante il prossimo anno accademico avendo inviato la richiesta online, ma senza essere ancora immatricolato al Polito perché laureando in un altro ateneo italiano? Allora, allo stato attuale delle cose dove non è prevista una didattica frontale? No, in quanto non avendo voi una pagina personale perché non ne siamo studenti, non avendo una piattaforma sulla quale seguire le lezioni, purtroppo, fino a quando non vi immatricolate non vi è possibile, almeno per il momento, funziona così a livello di sistema, non vi è proprio possibile accedere alle lezioni. Quindi, purtroppo, dovrete aspettare l'immatricolazione. Filippo, qual è l'ultima data utile per potersi iscrivere? Allora, se per iscrizione intendiamo inviare la candidatura per una valutazione, abbiamo sempre due finestre, primo periodo didattico e secondo periodo didattico. le scadenze sono riportate nel link delle note condivise, quindi direi che ci sono due scadenze distinte, una per poter inviare la domanda alla candidatura per ricevere una valutazione e l'altra invece per potersi immatricolare. Quindi, entro il 19 ottobre, chi si vuole iscrivere a partire dal primo periodo didattico deve inviare, appunto, la richiesta di ammissione e ricevere una valutazione. ricevuta la valutazione, poi si ha tempo fino al 27 novembre per completare l'immatricolazione, perché magari si riceve una valutazione, però ancora non si è conseguito il titolo. Quindi, successivamente si consegue il titolo e ci si può poi immatricolare. Questo vale sia per il primo che per il secondo periodo didattico. Gabriele, l'Atene offre la possibilità di conseguire la certificazione linguistica al suo interno? Sì. Prima che succedesse tutta la questione Covid, era possibile sostenere presso il nostro Ateneo l'IELTS. Speriamo che, appunto, nei prossimi mesi la situazione migliore è per consentirvi anche di usufruire di questo servizio, che, appunto, vi consente di sostenere l'IELTS ad un prezzo agevolato rispetto al sostenimento presso enti esterni, che rilasciano la stessa certificazione. Vi faremo poi sapere, avrete, insomma, quando sarà di nuovo possibile questa modalità, riceverete comunicazione. Allora, sono una studentessa, Maria Antonietta Emma, sono una studentessa proveniente da un altro Ateneo. In vista della laurea triennale, è possibile escludere dal conteggio della media 18 crediti? La media di accesso alla magistrale viene calcolata considerando i totali 180 CFU. Allora, come abbiamo detto, la media viene calcolata su tutti gli insegnamenti superati con voto. Non c'è possibilità di depurare la media per i candidati di altri Atenei, perché per gli interni abbiamo delle nostre regole, per cui, appunto, è prevista la depurazione della media. Immagino come nei vostri Atenei di provenienza ci siano altrettante regole. Però, per l'accesso al nostro Ateneo, non viene depurata, quindi vengono considerati tutti gli insegnamenti superati con voto, in trentesimi. Ci saranno dei corsi nel primo semestre per recuperare gli eventuali debiti formativi? La risposta è che i corsi sono, cioè nel momento in cui si invia la candidatura e la commissione vi dà delle integrazioni curriculari. Potete, appunto, effettuare un'iscrizione ai singoli insegnamenti. Questa iscrizione vi consente di superare e frequentare durante l'anno gli insegnamenti che vi sono stati assegnati e vi dà la possibilità anche di sostenere nella prima sessione utile, che è quella invernale, di febbraio, anche insegnamenti che magari sono erogati nel secondo semestre. Quindi, è possibile, appunto, recuperare i debiti formativi. Ovviamente, se si riesce a recuperare i debiti formativi entro la scadenza per l'immatricolazione al secondo semestre, si riesce quindi a iscriversi per l'anno accademico in corso. Altrimenti, si devono poi sfruttare le altre sessioni d'esami, che sono la sessione estiva e la sessione autunnale di settembre, e poi inviare nuovamente richiesta per la magistrale per l'anno successivo e scriversi. Antonella, per requisito ci vuole la media precisa del 24? Se fosse 23,98, ad esempio 23,68, sarebbe lo stesso? No, nel senso che non sono previsti arrotondamenti, quindi ahimè, anche in caso di 23,99, la media è praticamente controllata dal sistema, quindi il sistema in automatico non vi farebbe neanche inviare la candidatura. È un requisito inderogabile, non ci sono, non sono previsti arrotondamenti. Perché nella tabella vi sono due punteggi per l'IELTS academic, ovvero 5.0 e 5.5? Allora, Lorenzo, perché? Per l'accesso a tutti i corsi di laurea magistrale è previsto un punteggio IELTS 5, ma per l'accesso al corso di laurea magistrale in automotive engineering è richiesto un livello più alto, quindi è richiesto il IELTS 5.5. Ecco perché sono state, cioè nella tabella trovate sia i punteggi previsti per l'IELTS 5 e quindi tutti i sostitutivi IELTS 5 e sia i sostitutivi IELTS 5.5. I requisiti, Nicolo, di anticipo insegnamenti sono uguali a quelli per l'anno 19-20? Nel sito la pagina mi compare in bianco. Allora, 19-20, 20-21 come requisito di anticipo non è cambiato, quindi sono sempre 23 crediti di esami rimanenti dopo la sessione di settembre. La pagina dovrebbe essere aggiornata con tutte le informazioni, però al momento non le trovo sulla guida dello studente, ma la trova soltanto sul sito di accesso alle magistrali, perché la guida dello studente sarà poi aggiornata successivamente nelle prossime settimane, quindi se vuole appunto la regola per il 20-21 faccia riferimento alla sezione del sito delle magistrali. Allora, buon pomeriggio, sono una studentessa triennale del Politecnico. Inserendo nel carico didattico la prova finale, ma avendo sostenuto tutti gli esami della triennale, posso comunque iscrivermi alla magistrale? È l'immatricolazione ufficiale, avverrà solo dopo che verrà registrato il voto di laurea. Allora, potrebbe come non potrebbe rientrare nella regola degli anticipi, nel senso dipende quando lei intende conseguire il titolo, quindi dovendo fare un'altra iscrizione verrebbe da pensare che lei dovrebbe laurearsi a marzo, perché marzo sarebbe diciamo la prima sessione del nuovo anno, però se riesce a concludere tutto e laurearsi in 2 dicembre, può fare l'anticipo crediti? O, se si laurea ad ottobre, non ha neanche bisogno di anticipare gli insegnamenti? Consegue il titolo e si iscrive direttamente alla magistrale? Sì, lei ha aggiunto, scusami Alba, la studentessa ha aggiunto che se conseguiti il titolo a dicembre, in realtà lei potrà fare gli anticipi, ma perché tu stai andando in ordine, io invece scorro un po' su un po' il chiamato. Eh no, allora, provo a chiudere un attimo le note, così forse riesco a vedere un po' tutto. Allora, in questo caso, Fabiana, se consegue il titolo a dicembre, le conviene fare l'anticipo, avrebbe comunque il requisito per anticipare, parlo del numero di crediti, non so poi, appunto, deve anche rispettare gli altri requisiti di ammissione, però per chi si laurea a dicembre è consigliato appunto fare l'anticipo crediti. Ok. Alessandro, avendo ottenuto già i 140 crediti e prevedendo di laurearmi a luglio, mi conviene già inviare la richiesta online o aspetto di ottenere prima il titolo? Allora, consiglieremmo di inviare già la richiesta per una questione di tempistiche, nel senso che, cioè, prima riceve una valutazione, prima riesce anche a valutare se le conviene effettivamente proseguire su quel corso o sceglierne un altro o addirittura proseguire in un altro ateneo. Quindi, direi che se, appunto, poi dovesse avere urgenza di effettuare l'immatricolazione, se la facesse poi troppo tardi la richiesta e avesse bisogno di una risposta in pochissimo tempo, non sarebbe possibile garantirla perché, appunto, abbiamo detto, ci vogliono in circa 10-20 giorni per ricevere la valutazione. Quindi, tenendo conto di quello, valuti lei se, appunto, procedere subito o attende. Insomma, valuti lei il momento migliore per procedere. La soglia del 24 di media viene calcolata sugli esami superati al momento della registrazione su Apply oppure una volta conclusi tutti gli esami? Allora, viene calcolato su quello che voi inserite. Poi, se mancano degli altri insegnamenti, perché, per esempio, avete inserito soltanto 150 crediti, man mano che andate a inserire gli insegnamenti, c'è il ricalcolo della media. Quindi, sì, man mano che voi aggiungete un insegnamento, c'è sia il calcolo dei settori che il calcolo della media. Se il requisito della media non è soddisfatto, Antonella, si possono sostenere degli esami per poter comunque raggiungere quel requisito? No. Purtroppo è un requisito che, appunto, è inderogabile, cioè o lo si ha o non lo si ha. Non è possibile integrare in alcun modo, non sono previste delle prove integrative. Chiara, buon pomeriggio. Se ci sono esami integrativi da sostenere prima di iscriversi alla magistrale, vanno sostenuti prima di immatricolarsi? Sì. Quindi, se la commissione dovesse darle degli insegnamenti da integrare, lei prima è tenuta a superarli. Una volta che ha superato e ha anche i voti, ha anche gli insegnamenti registrati, potrà poi procedere con l'immatricolazione alla magistrale. Allora, Alessandro, non so se sia di vostra competenza, ma io ho guardato la tabella degli SSD e, ad esempio, tra i requisiti di base di un corso di mio interesse, vi sono l'esame di geometria e l'esame di algebra. Nel mio ateneo, questo esame non è diviso in due parti, ma i due insegnamenti fanno parte di un unico esame. In questo caso, la piattaforma come fa ad analizzare questo caso? In caso non sapeste darmi una risposta, sapreste indirizzarmi per capire meglio come muovermi? Ma perché ha un insegnamento unico, afferente a più settori scientifico disciplinari, immagino. Cioè, intende quello? Alba, se vogliamo comunque dare una risposta... Di geometria comprende anche algebra. Allora, diciamo che, appunto, il punto di partenza di questo webinar era di dare delle informazioni in generale. Se poi ha problemi, appunto, nello specifico della sua carriera, ci scriva tramite ticket e noi le forniamo assistenza. Comunque, sul sito c'è scritto che se un insegnamento ha più settori scientifico disciplinari, quindi teniamo il caso che il suo insegnamento sia da 10 e ha due settori scientifico disciplinari, deve inserire l'esame due volte, una volta con i crediti relativi a un settore, una volta con i crediti relativi all'altro settore. Comunque, dovesse avere problemi, apre un ticket e noi la guidiamo, insomma, nella procedura. Non ci sono problemi. Allora, Lorenzo... Grazie per la risposta, dunque, in base a quanto adesso ho detto da voi. Per Ingegneria Informatica è necessario un punteggio minimo di IELTS 5? Sì, per tutti i corsi, tranne che per Automotive. Quindi, sì. Ok, bene. Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ringrazio tanto Alba per la completezza e la chiarezza delle risposte. Come ha appena detto lei, vi invitiamo, se avete ulteriori dubbi o domande specifiche sui vostri casi particolari, a contattarci tramite PICET. Al momento vi ringraziamo per l'interesse che avete dimostrato per i corsi del Politecnico, per aver partecipato con noi a questa breve presentazione. Vi salutiamo e vi aspettiamo al Poli. Quindi speriamo di poterci incontrare tra qualche mese nei corridoi, sperando di poter tornare a fare lezione e a fare servizio in presenza. Grazie ancora. Grazie. Grazie.